Olio della Sabina DOP che è indiscutibilmente un prodotto tipico italiano, uno dei tanti prodotti tipici nel nostro paese che fortunatamente non si è visto tassare a livello estero dai tassi posti dall'America e comunque più in generale a livello internazionale. Perché questo? Intanto diciamo che cosa significa DOP come denominazione d'origine protetta. Sabina DOP significa che tutto il percorso produttivo è tracciato, gli olivedi sono registrati in un apposito registro, il frantoio deve essere in sabina, quindi olive, frantoio e confezionamento deve essere fatto tutto in sabina e su questo è tutto tracciato a livello di certificazioni. Il problema dei tassi non ce l'avremo mai perché comunque l'olio italiano non penso che sia molto apprezzato nel mondo, facciamo fiere internazionali e non penso che ci saranno mai tassi perché comunque è un alimento base, è di qualità altissima, difficilmente eguagliabile. Quindi non credo in ogni paese, tipo il Giappone, pure che sono molto rigidi, nelle dogane, il prodotto italiano d'olio e le cose derivate non incontrano ostacoli.